Con la Nadef si certifica che la propaganda del governo è finita, è finita da un pezzo. Abbiamo una prospettiva in cui c'è zero crescita, zero investimenti e ovviamente non si risolvono i problemi delle famiglie italiane. Parliamo del caro mutui, del caro del carrello per la spesa più 10% e parliamo anche del caro carburante. Da questo punto di vista credo che i primi a rimanere delussi siano i cittadini che hanno votato questo governo, un governo che aveva annunciato una svolta, un governo politico che rivendicava una svolta per quanto riguarda la politica economica e sociale del Paese ed è invece un governo che certifica manovre dello zero virgola. Non c'è nessuna prospettiva di rilancio del Paese e vorrei ricordare invece che di contro questo governo per un anno ha continuato a beneficiare come il governo Draghi delle prospettive espansive che abbiamo costruito. Ricordo, sono numeri, più 12% di incremento di PIL in un biennio, abbiamo migliorato di 15 punti in tre anni il rapporto debito-PIL, abbiamo maggiorato le entrate fiscali dello Stato di 100 miliardi in due anni e quello è il tesoretto che prima Draghi e la Meloni hanno distribuito agli italiani. Di suo questo governo a cosa ci mette? Non ci mette nulla. Prego, domande. Migranti, come commenta la posizione del governo? Guardi, abbiamo un governo che quando si riaccendono i fari dell'opinione pubblica sul disastro che hanno combinato sul fronte dell'immigrazione non fa altro che adottare un nuovo decreto e ogni volta hanno un nuovo spot pubblicitario che non risolvi affatto. Anche quest'ultimo, questi ultimi interventi, che cosa fanno? Vogliono creare nuovi centri per quanto riguarda la permanenza per i rimpatri, ma le regioni ovviamente si oppongono e non vogliono di fatto che l'Italia di 20 venga certificata agli occhi europei dell'opinione pubblica mondiale come un hotspot europeo e inoltre vogliono rendere ancora più spedite gli ordini di espulsione, ma l'ordine di espulsione non equivale al rimpatrio. Anche questa è una presa in giro. Loro possono fare anche più facilmente tantissimi ordini di espulsione. Il problema nostro sono i rimpatri, sono le persone che rimangono qui sul nostro territorio, che non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio e si diffondono, dilagano le nostre periferie, non certo nelle zone TL, non certo nei quartieri residenziali dove poi si alimentano i salotti, i tv e tutti a parlare del problema dell'immigrazione. Chi fa propaganda e chi invece vorrebbe opporre un'accoglienza che però si ferma soltanto allo sbarco e il giorno dopo volge la testa all'altra parte non curandosi della sorte di queste persone disperate che rimangono sul nostro territorio. Presidente, si torna a parlare di riforma della prescrizione ancora una volta, il Movimento 5 Stelle che cosa ne pensa? In un paese normale dove ci sono forze politiche responsabili non si parlerebbe di sovranismi, si parlerebbe di sovranità, che è un concetto caro a uno Stato che vuol far rispettare le regole uguali per tutti. Che sovranità vuol rivendicare lo Stato italiano nel momento a forze politiche di maggioranza, addirittura supportate da forze di opposizione, che invece non vuole celebrare i processi. Sta facendo di tutto con la prescrizione, unita alla riforma cartavia che come sapete si è distinta per l'imprescrittibilità, dicendo che il processo o finisce in un lasso di tempo molto breve o svanisce nel nulla. Qual è allora il risultato? Che uno Stato rinuncia ad accertare la verità processuale dei fatti, quindi rinuncia deliberatamente a rendere giustizia soprattutto alle vittime, alle vittime del reato. Su questo passo, di questo passo, rinuncieremo a rendere giustizia. Diciamolo chiaramente ma noi ci opponiamo fermamente. Grazie.